E' complicato cancellare la memoria? Ma qual è il divertimento? Scusate tanto, non è meglio vedere un sorriso invece di un pianto. Sensibilizzare contro la discriminazione, questo è lo scopo importante di questa giornata, Sindaco? Sì, dobbiamo dire che Fanno ha sempre vissuto questa giornata con grande partecipazione, con grande convinzione, consapevoli che la violenza sulle donne è inaccettabile, è qualcosa di orribile e incomprensibile. Quindi sono convinti che questa giornata sia un'azione importante anche di sensibilizzazione, perché due sono gli elementi. Uno è quella culturale, di una consapevolezza del rispetto della persona e l'altro quella di trovare strumenti per tutelare le donne. Quest'anno diciamo che c'è una maggiore intensità perché ancora stiamo vivendo il lutto di questa perdita, di questa ferita che ha colpito la nostra comunità, la perdita di Anastasia, Anastasia come vi viene chiamata in Ucraina, che ci fa toccare da vicino perché molte volte quando pensiamo al peggio pensiamo che sia sempre lontano, invece è dietro l'angolo in ogni comunità. Per cui questa giornata non deve essere soltanto un rito, ma deve essere un momento di sensibilizzazione, ma anche di far capire le coscienze di tutti e far capire il valore del rispetto della persona, consapevoli che le differenze sono una ricchezza e non sono una preoccupazione. Comprendere che la violenza non rende virile l'uomo, ma lo rende stupido e sciocco. Per cui viviamo questa vita nel rispetto degli altri.